Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, Monti ha fatto una gaf per dire che è bello un paese che realizza un alto tasso di mobilità sociale, che non è immobile, che produce ricchezza, che consente possibilità diverse, a tutti ha detto che il posto fisso può alla fine poi rivelarsi monotono, il che è un po' la logica alla Maria Antoinette, il popolo mi chiede pane, diamo gli brioche, una piccola gaffe, però sentite in che modo demagogico, è illogico perché la demagogia, cioè la volontà di accattivarsi le simpatie dei propri referenti, dei propri interlocutori, soprattutto quando questi interlocutori sono, diciamo, masse di persone, è sempre anche un po' illogica. Sentite come sta demagogica la risposta di Susanna Camusso. In questo momento in Italia ci sarebbero tantissime persone che sarebbero felici di annoiarsi e che ce n'è purtroppo moltissime che non si possono annoiare perché stanno disperatamente cercando un posto di lavoro e forse più che usare delle battute bisognerebbe provare ad indicare a loro qual è la strada che il paese intende intraprendere per dargli una risposta. Ecco, con quell'aria bonaria simpatica, un po' da mamma della Repubblica e del suo principale sindacato alla CGL, Susanna Camusso dice, eh sì, annoiarsi sul posto di lavoro quando il posto è fisso. C'è tanta gente che sarebbe felice di potersi annoiare, di poter avere un posto fisso e monotono e invece di dire queste battute sceme bisognerebbe cercare un lavoro per loro, che è appunto quello che sta cercando disperatamente di fare, ma non il governo Monti, sta cercando disperatamente di fare, ci ha provato Berlusconi, ci hanno provato in tanti, il famoso patto per l'Italia all'inizio degli anni 2000, quello che stanno cercando di fare le persone serie ci ha provato in qualche senso Marco Biaggi, ci ha provato Tiziano Treu, Pietro Ichino che è un senatore del PD, ci provano a destra e a sinistra, trovare il lavoro a quelli che non ce l'hanno e una delle chiavi per trovare il lavoro a quelli che non ce l'hanno, monotono o allegro e divertente che sia, posto solido, fisso è effettivamente una cosa che non ha molta logica in un'economia di mercato, ma insomma un posto solido, robusto, sul quale si può contare, si può accendere il mutuo, si può comprare la casa, si può sposare, si può fare figli senza l'arrière pensée, senza il retro pensiero che poi alla fine ci deve pensare la mamma, la nonna, bisogna affidarsi alla famiglia, bisogna rimanere in un contesto di protezione che non riguarda la tua capacità dignitosa di essere autonomo, libero e di guadagnarti la vita col sudore della fronte, vogliamo dire? No, di guadagnarti la vita con una prestazione lavorativa ben pagata, ecco, la Camusso che sembrerebbe dalla parte di quelli che cercano questo lavoro, secondo me in termini di logica è invece dall'altra parte, nel senso che la sua Italia, l'Italia di un certo sindacalismo è immobile, contrasta le tendenze ormai affermate in tutto il mondo a creare lavoro attraverso una maggiore mobilità e flessibilità sociale. È logica non smentibile da alcuna statistica, è la Flex Security danese, è come fanno gli americani, è come fanno gli inglesi, è come fanno i francesi, i tedeschi, nessuna statistica può smentire questo dato logico. Se un imprenditore sa di poter licenziare un lavoratore per motivi economici, non discriminatori, quella è una protezione che tutti dicono deve restare, ma per motivi economici seri, risarcendolo ampiamente di questo fatto, in un contesto di ammortizzatori sociali in cui gli interregni tra un lavoro e l'altro possano essere sostenuti anche dalla fiscalità generale, perché è interesse di tutti che non si disperdano valori di lavoro, anche individuali, attraverso poi riqualificazioni, formazioni, ma se un imprenditore può alla fine liberarsi per motivi economici di una piccola quantità di manodopera, a posto che gli imprenditori non hanno voglia di licenziare la gente, hanno voglia in genere di rendere più forte e redditizio il loro business e quindi di trasformare i loro capitali, la loro ingegnosità, la loro capacità di previsione e il lavoro che impiegano soprattutto, che è la base del loro business, in una cosa che produce reddito, che produce profitto, quindi non è che vogliono licenziare la gente, ma se, ripeto, possono farlo, ne assumono di più e più volentieri e si determina quel circuito di mobilità che nei paesi dove non esiste il reintegro coatto attraverso il magistrato sul posto di lavoro garantito dalla legge, quei paesi sono più mobili e crescono più di quanto non cresca l'Italia, è tanto semplice, noi siamo bloccati, siamo immobilizzati da una legislazione protettiva che ha le sue giustificazioni storiche, che è stata fondamentale per dare al paese un assetto più moderno, ma che oggi è superata dai fatti. Fare i conti con questa cosa non significa dare in pasto i lavoratori alla cattiveria dei padroni o al governo dei banchieri e dei tecnocrati, significa fare una cosa che è l'aspirazione di tanti che sono oggi esclusi dal mercato del lavoro e rischiano di esserlo per i prossimi anni proprio per l'eccesso soffocante di tutele. Uff a ripetere sempre queste cose. Arrivederci a domani. Parla Londra, abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.